Lo ZODI 105 presenta Teste di casting La produzione è alla ricerca del protagonista di un B-movie horror a basso costo. L'attore dovrà immergersi in un mondo dove, a causa di uno sconvolgimento climatico, la terra è funestata da un vento terrificante. Per questo motivo, la vittima dovrà provare a recitare di fronte ad un enorme ventilatore acceso. Raga, io sai che vorrei essere adottato da questa persona? Io lo vorrei mentre sono all'altare di fianco a mia moglie che mi dice bravo sposala! Fabio, gli fai muovere le sopracciglia? Siccome stavo guardando la conformazione del viso, puoi muovere le sopracciglia fino più su? È primo di parte della muscolatura del volto! Ma hai fatto il furetto? Ho fatto qualche lavoro di qualche genere, non so, il furetto? No! Lo stiamo cercando per un film fantasy con la striscia pedonale e parlante. Ad esempio c'è la striscia pedonale e parlante. No, se si sdraia e parla è il mio idolo. Allora, puoi farmi il ciac così? Film fantasy, striscia pedonale e parlante. Bello, bello, bello. Vado a sdraiare. Sulla X, per favore. È un po' più promontore. Le darò tre battute, se lei le può fare. Grazie. Come? Le darò tre battute, se le può fare. La prima è attraversate, prego. Attraversate, prego. Un po' più robotico, diciamo. Lei ha una striscia pedonale. Attraversate, prego. Benissimo. Non attraversate, prego. Non attraversate, prego. Eh, la miseria quanto pesa sta macchina. Eh, la miseria quanto pesa sta macchina. L'ultima, che è la parte più divertente del film. Uè, ma questa qui non porta le mutande. Accidenti, questa signora non indossa le mutande. Il mistrale è il maestrale. Il vento... Il vento maestrale, sì. Esatto. Il mistrale è un vento assassino. Sì. Il vento maestrale, lei sa che è il vento. Perché, certo. Certo. Il protagonista di questo film, è una produzione di intero tedesca, si chiama Rinaldo. Allora, proviamo a urlare forte Rinaldo. Forte? Sì, sì, forte. In una situazione... Rinaldo! Sì. Però, più verso di me, come se io fossi Rinaldo. Sì, più accorato, diciamo. Rinaldo! Così è più un uratore bergamasco. Rinaldo! Provi ad aiutarsi con le braccia. Rinaldo! Di più, di più. Cioè, un gesto più strelleriano. Rinaldo! Un urlo di disperazione. Rinaldo! Ecco, ecco, ci siamo. Con le braccia protese, così come a cogliere un pargolo che scende dal cielo. Adesso prova a boxare con questo vento. Riproviamo a urlare Rinaldo, voltato verso il vento, come se il vento la stesse portando via. Rinaldo! Sì, anche con più forza. Rinaldo! Rinaldo, mi aiuti! Continui, combatta, combatta con il vento. Rinaldo, mi aiuti! No, prego, prego, forza, grinta. Rinaldo, aiutami! Di più pugni e calci, proprio. Rinaldo, aiutami! Sì, secondo me si può fare meglio, eh. Rinaldo, aiutami! Rinaldo. Grazie.